Queste parole dei miei, sono accessibili, per cui poi ci girate intorno vedrete che ci sono delle scale che portano fin giù e permettevano a un uomo di statura molto minuta di aprire fin giù e di studiare un'area bassissima manutenzione, quindi non solo costò 75 di manutenzioni che era nulla per il tempo, ma costava come manutenzione 50 mila di canna, ma costava quasi nulla. Questa scala c'era sulla cima della colonna, queste cose di rame che vedete adesso non sono originali. Giù una si inventa una legna che sta a questa scala, diventa una legna, 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 diventa una legna. Abbiamo fatto fatto per un tempo, per un'uno di capitane, la legna un ferro, era la, il fatto che aveva preso, il ferro si strappava, non regeva, quindi provoca, progetta prima una macchina, che si chiama una macchina statica, ma va a Napoli, la mette sotto il livello del terreno, fa questo stress test, la tirava fin quando non si strappava, quando si strappava questo ruffone generava delle vibrazioni che andavano in una sola macchina con la quale faceva il testo. Pensate che con questa lega lui risolse anche questo problema, il punto di sospensione.